allora che pensavi dicendo? buonasera innanzitutto buonasera mondo buonasera qua stasera a un ristorante di camionisti fighissimo perché insomma si mangia bene sai che con i camionisti si mangia molto bene e si risparmia anche tanto poi questo periodo ancora meglio il periodo storico scusate c'ho caldo siamo al primo d'ottobre ma fa caldo e sto canta storie oh io faccio un mazzo di caldo allora i bicchieri di vetro o di cristallo non ci danno più ci danno i bicchieri di carta una giornata speciale primo ottobre mi trovo in compagnia con questa splendida creatura che è Manuela dato che noi siamo degli amici inseparabili perché la nostra amicizia va oltre i confini di tutto quello che pubblichiamo si tipo la serie del film telefilm c'era una volta non so se la avete visto si ma 120 puntate lei ha avuto la sfrontatezza di vedersene tutto ma perché io sono una romantica sentimentale che crede nei favore forse per questo mi trovo male in questo pianeta voglio andare via portatemi via allora Manuela la domanda è c'è pure la domanda da parte abbiamo anche quella di scorta ha pure la domanda da parte ma secondo te questo pianeta dove sta andando? dove sta andando? no il pianeta sta sempre là ma sicuramente non so quanto durerà questo pianeta questo si è un'altra domanda da parte